Hanno fatto esplodere 11 bombolette di gas nella cella per tentare probabilmente un'evasione. L'incidente è avvenuto stamane intorno alle 5 all'interno della casa circondariale di Bellizzi. L'esplosione si è registrata nella cella numero 8 del piano terra del carcere dove erano reclusi due detenuti. Le bombolette usate per i fornellini da campeggio erano state accatastate nei pressi del muro della cella, circostanza che ha fatto subito pensare all'ipotesi di un tentativo di evasione. Durante le operazioni di soccorso è rimasto lievemente ferito un agente penitenziario che effettuava il turno di notte. Sul posto si è recato anche il direttore del carcere Paolo Pastena ed è intervenuto una squadra dei vigili del fuoco. Le cause dell'esplosione sono ancora tutte da accertare. I vigili confermano comunque la natura dolosa. Sono in corso le indagini da parte della direzione del carcere per cercare di ricostruire l'esatta dinamica. I due detenuti naturalmente sono stati ascoltati e tenuti sotto osservazione. L'episodio di questa mattina ha riportato subito alla mente la fuga dei quattro detenuti di qualche anno fa nello stesso carcere di Bellizzi. I quattro fuggirono di notte attraverso la finestra appendendosi a delle lenzuola. Ed anche questa volta su caso sono intervenuti i sindacati della penitenziaria che attendono lo sviluppo delle indagini per capire l'esatta dinamica. Nel frattempo esprimono solidarietà al collega Pasquale Ricci che è stato soccorso e trasportato in ospedale. è stato sottoposto ad un controllo all'occhio. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite.